Un anno di Lega significa non solo qualche milione di elettori o potenziali elettori in più, che ovviamente è la mia ragione da segretario del Movimento, visto che a dicembre dell'anno scorso i sondaggi ci accreditavano di una percentuale intorno al 10-11%, è passato un anno, abbiamo lavorato per un anno e sempre gli stessi sondaggi di cui comunque di fido a prescindere ci accreditano di percentuali intorno al 15-16%. Quindi auspicabilmente nell'incontro pre-natalizio dell'anno prossimo l'impegno è di essere sopra il 20. Per fare cosa? Stretta attualità. Penso che per la primavera prossima organizzeremo il primo grande referendum in tutta Italia sull'Europa. L'anno prossimo ci sarà l'occasione per i britannici di votare per rimanere in questa disastrosa Europa o uscirne salvandosi. E quindi siccome è quasi tutto quello che sta cadendo sulla testa degli italiani, dalle banche all'agricoltura, alla pesca, al commercio, alle pensioni, purtroppo deriva da scelte, foglie e suicide di Bruxelles e di Strasburgo e visto che la Costituzione e Renzi lo impediscono in contemporanea col referendum britannico, quindi mentre a Londra voteranno per dire dentro o fuori, noi allestiremo in tutta Italia, per la prima volta da nord a sud, perché questa è la scommessa che la Lega dovrà vincere l'anno prossimo, un referendum nello stesso giorno, nelle stesse ore per chiedere ai 60 milioni di italiani se vogliono rimanere schiavi di questa Europa oppure se vogliono rialzare la testa. Ecco, il 2016 per la Lega sarà l'anno della riconquista della sovranità nazionale, da nord a sud, che riguarda l'immigrazione, che riguarda le banche, che riguarda l'economia, che riguarda le pensioni, perché qua abbiamo avuto dei governi complici di un furto di futuro, di sovranità e di competenze. E quindi vedremo di mobilitare i 60 milioni di italiani, che poi potranno dire sì o potranno dire no, con questo che sarà uno sforzo organizzativo senza precedenti, perché fino all'altro ieri ovviamente iniziative come queste le facevamo solo al nord, saremo ovunque, Roma compresa, con i nostri gazebo nel giorno del referendum britannico. Tutte le ultime elezioni, dalla Francia alla Spagna, dicono che la gente vuole tornare a contare, vuole riscoprire l'orgoglio, svenduto dai Monti, dai Letta e dai Renzi, e quindi questa sarà la battaglia con la B maiuscola, che l'Italia torni a essere Italia, a contare, a decidere, a cogliere chi vuole accogliere, a speller chi vuole spellere, le sue banche se le gestisce lei senza diktat, folli come quelli che stiamo vedendo, possibilmente senza papà, fratelli, amici, cugini, cognati, amanti o parenti, nei consigli di amministrazione o negli uffici fondamentali. Se Gesù Bambino sarà buono, coi bimbi buoni, Renzi andrà a casa nel 2016, perché sicuramente non è stato buono nei confronti degli italiani. E noi siamo pronti, siamo pronti non solo come Lega, ma responsabilmente unendo tutti quelli che ci vogliono stare. Spero che termino le fibrillazioni in Forza Italia, spero che qualche attuale rappresentante di Forza Italia prenda la tessera del PD, cosa che gli dovrebbe essere più naturale visto il suo agire politico. E chi ha idee chiare, coraggio e buona volontà, ci dia una mano. Perché ripeto, in tutta Europa soffia un certo tipo di aria, non vedo perché in Italia dobbiamo stare dietro a bizzarrie di altro genere. A gennaio, probabilmente il 28 gennaio, ci sarà un'altra prima volta, ci sarà la prima volta dei Marine Le Pen in Italia, in particolar modo a Milano, con tutta la coalizione. Ho invitato anche rappresentanti del movimento di Putin per quella giornata a Milano per proporre la nostra idea di Europa, di lavoro, di confini, di immigrazione e di futuro. Alcuni di voi mi hanno chiesto commenti sulla manovra economica, però dovremmo stare qua tre ore. Secondo me il segnale più infame è quello che ha colpito i disabili, che continuano ad essere tassati e tartassati, visto che l'indenità di accompagnamento continua a fare cumulo nel reddito ISEE, quindi essere disabile o malato grale in Italia per Renzi è un ostacolo. Quindi io mi ricordo che erano altri regimi in passato e purtroppo qualcuno anche nel presente che vorrebbe eliminare i disabili come non produttivi e questa sarà una battaglia che condurremo con tutta la cattiveria necessaria, sulle amministrative, evito di unirmi al Totonomi, ribadisco che conto di arrivare entro la fine dell'anno ad avere, se non ovunque, in alcune grandi città la squadra pronta e quindi qualche giorno di pazienza. altro non ho da aggiungere su quello che abbiamo fatto e su quello che soprattutto ci proponiamo di fare, la sfida la vinciamo crescendo ancora al nord ma radicandoci al centro e al sud. i dati sono buoni, le adesioni sono enormi, ovviamente dobbiamo dire tanti no al sud perché si avvicina parecchia gente che vede il progetto Lega come un tram per perpetuare la poltrona. La prima cosa che chiediamo è la fedina penale, c'è il casellario giudiziario esteso anche ai papà e ai fratelli visto che va di moda e poi sono convinto che dopo la Francia dopo altre ondate di questo genere toccherà l'Italia Renzi può prolungare la sua poltrona per qualche mese ma non di più sono convinto che i segnali di cedimento siano ormai assolutamente chiari ed evidenti noi dobbiamo e vogliamo farci trovare pronti.